io ho voluto a questo giro come dire un po intitolare tra virgolette questo questo mio incontro questa mia lezione aperta con questo concetto del less is more per la serie come dire tradotto un po alla buona in un pomeriggio così tranquillo tra noi meglio meglio meno che più e uno potrebbe dire in che senso è che io sono io personalmente stasera mi faccio un po la voce grossa perché vi porto il mio punto di vista opinabile e anzi sono contento che siamo un numero tranquillo perché così ci può essere anche più scambio e anche meno diciamo timidezza ad alzare una mano o a intervenire anche senza alzare la mano siamo tra noi come se si fosse a cena senza cibo ecco diciamo così altro tipo di cibo ecco diciamo così però ecco a me mi è sempre stato a cuore perché da quando mi sono messo e non sono arrivato da nessuna parte però da quando mi sono messo a cercare di fare le lezioni oppure come lo chiamo io a diciamo portare divulgare un po il mio punto di vista sullo strumento e a trovare persone che si sono sempre fidate di me io ho sempre approfittato di questo momento per andare certamente a dire per soprattutto uno che inizia l'impostazione per uno che inizia proviamo a facciamo delle delle partiamo da una scala maggiore vediamo quelle che sono le note barra gradi che ci possono essere di aiuto in un accompagnamento cose diciamo scontate se così vogliamo dire però un concetto che secondo me passa sempre molto poco associato anche a un dilagare tantissimo di youtube e di youtubers che fanno bene a fare quello che fanno perché tanto ormai c'è veramente volente o nolente spazio per tutti quello che io vedo che come passa di concetto cioè quello che passa come concetto del nostro amato strumento che abbiamo portato qui stasera quindi di queste di queste quattro corde è che paradossalmente c'è un concetto per cui se faccio poco non non sono ora faccio parlo in maniera proprio adolescenzialissima se faccio poco non sono figo e non emergo e quella quel provino non mi considerano e non arrivo a fine serata con quell'applauso quella pacca sulla spalla se faccio quel coso quel poco che devo fare è già grassa se insomma diciamo mi considerano un po quelli del gruppo e se va bene e quindi alla fine da un dilagare diciamo di youtube in cui vedi che se non fai le note ad una velocità estrema non sei nessuno a partire da dalle famose visualizzazioni eccetera mi sono accorto che nel momento in cui e ho che non è qui presente è avvenuto l'ultima l'ultima volta tanto non faccio nomi un mio carissimo allievo che definisco storico diciamo così vi farà ridere la cosa una volta abbiamo provato a fare che sono convinto che la conosciate tutti più o meno nel dettaglio la linea di basso di psycho killer e dopo che gli ho fatto sentire le prime quattro misure lui mi guarda e mi fa no mi interruppe per dirmi ma è tutto uguale io ci rimasi un po e dissi ovviamente sempre dentro di me ma andre è tutto uguale sì nel senso che intanto è una linea di basso che ha vinto nella misura in cui se la fai partire senza basso senza niente diciamo a meno che tu proprio non vada diciamo al polo nord dove non c'è una folta diciamo un folto numero di esseri umani fai questa linea di basso all'improvviso e sicuramente sei riconoscibile quindi è una linea di basso che ha fatto anche centro e lui mi disse no perché è tutto uguale e lui sì ah e cos'è che c'è che no è tutto uguale piacerebbe muovermi un po di più e io e io dissi ah già c'è cascato anche andrea in questa cosa e infatti ho cercato di salvarlo e in parte l'ho salvato ma a parte non c'è da salvare nessuno c'è il concetto per cui un altro mio caro allievo che non è potuto venire oggi a volte parlando con lui mi provando delle parti un pochino più dedicate all'andamento ritmico lui mi diceva sempre l'ore sa mi sembra di fare poco e fatto ma simo in che senso si sembra di fare poco e non lo so ma ti sembra sufficiente questo eccetera eccetera e lui gli ho fatto ma è funzionale a quello che stai facendo in che senso è funzionale e gli ho fatto ascolta quando ascolti la musica al di là che puoi soffermarti su uno strumento in particolare o sul tuo strumento senti come io spesso e volentieri anche se non so cucinare ma porto sempre l'esempio un po anche a livello culinario cioè nel senso senti che è tutto mediamente 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 equilibrato al di là di quella volta che ti ci scappa un po di sale in più e quella pasta è un po troppo saporita ma mediamente c'è un equilibrio lui mi dice sì è vero e l'ho fatto allora scusami se tutto ha un equilibrio anche tu cerca di raggiungere nell'accompagnamento un equilibrio non capisco il fatto fai meno ma in che senso fai meno fai ottavi e ma mi sembra di fare poco accidenti e quindi da lì mi si è aperto questo discorso e ho detto non sono naturalmente né un un inviato di niente o un uno che dice voglio portare questo concetto in giro assolutamente no mi piace farlo presente diciamo nelle mie lezioni e quando appunto ho questa possibilità di poterne parlare è un argomento anche di cui parlai le precedenti due volte io dissi secondo me l'efficacia del nostro strumento è proprio questa cioè di essere proprio senza che la parola sia denigrante per noi ma servizievoli verso la canzone io ho sentito dire molto spesso servire la canzone sembra servire proprio a volte se non lo prende male come accezione sembra proprio di essere servire no invece se lo si prende da un punto di vista diciamo di 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 orgoglio in quel gesto ecco non vuol dire rimanere per forza dietro le quinte assolutamente no ma vuol dire semplicemente portare con il nostro a cooperare per la riuscita di quel determinato brano il quale vive anche grazie a noi e in quel momento sta in piedi anche grazie grazie a noi e grazie a tutti